Buongiorno a tutti. Abbiamo avuto insulti, avete avuto dubbi su di noi. Ogni giorno c'è un sistema che attraverso gli editoriali, i giornali, le tv, le opposizioni, i presidenti dei presidenti e degli altri presidenti di tutte le organizzazioni del Paese cercano di indebolire del Movimento 5 Stelle perché si vorrebbe tornare indietro per non cambiare niente. Noi vogliamo andare avanti per cambiare il più possibile e lo dimostriamo con i fatti. Questa di oggi è una importante giornata che ridà dignità ai lavoratori che avevano un contratto part-time nella scuola di soli 18 ore e che finalmente vedono potersi completare la loro cattedra grazie al decreto rilancio con una prospettiva. Siamo in un'emergenza, ci sono dei lavoratori con delle difficoltà ma soprattutto con una scuola che deve ripartire, ha bisogno di personale aggiuntivo che verrà messo a disposizione con il miliardo che ha garantito questo governo in una conferenza stampa con due ministri e il presidente Conte ed era importantissimo far partire contratti nella scuola di titolarità ai lavoratori con un contratto part-time da 18 per portarli a 36 ore, da settembre a dicembre. Una prima misura necessaria in uno scostamento di bilancio che è solo per quest'anno e che quindi la misura può essere proposta solo per quest'anno ma con la volontà di rendere stabile questa misura a partire dalla prossima legge di bilancio e noi alle parole abbiamo fatto sempre conseguire i fatti. C'è un solo errore che ha fatto il Movimento 5 Stelle arrivare troppo tardi in questo paese quando i ponti già crollavano delle autostrade è arrivato tardi quando un sistema sanitario non era pronto a gestire nessun tipo di epidemia e situazione difficile ed abbiamo ricostruito il ponte in un solo anno abbiamo aggiunto 9.000 posti di terapia intensiva e costruito centinaia di ospitali Covid e faremo il massimo per la scuola, finalmente investiremo mentre il centro-destra, quello che vuole tornare al governo, quello che vuole abbattere Conte il Movimento 5 Stelle, quel centro-destra ha tagliato 8 miliardi all'istruzione tagliato 100.000 cattedre e ha risposto ad una crisi economica con i tagli allo Stato noi rispondiamo a una crisi economica con gli investimenti nell'istruzione, nella conoscenza e nella cultura per questo andremo avanti per trasformare questo paese nei prossimi tre anni in un paese degno della propria storia